Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, e dal Vangelo secondo marzo, gloria a te, tuo Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, e dal Vangelo secondo marzo, e dal Vangelo secondo marzo, gloria a te, tuo Signore sia con voi e con voi. Nessuno conosce il Padre che non è il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia ripenare. Vedite a te voi tutti, che siete affaticati e io a te, e io vi risolverò, prendete il mio troppo sopra di voi, ed imparate da me. Dissolvete il mio cuore e troveretevi solo le vostre anze, il mio gioco dolce e il mio carico. Leggeri parola del Signore Lode a te, Paolo Cristo